Grazie a tutti, Mayra. Grazie a tutti. Già selezionati i finalisti, abbiamo quindi Cane da pastore della V. Sibirian Husky. Grazie. Braco di Weimar a pelo corto. Grazie a tutti. La nostra giudice si sta recando sul podio, io mi recco a Giuseppe per scoprire chi chiamare, per cui terzo posto per il Cane da pastore della V. Secondo posto per il Weimarer, sale sul gradino più alto del podio, Sibirian Husky. Grazie. Grazie. Ringraziamo i nostri amici fotografi. Grazie. 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 Grazie.